E' stato un grande onore lavorare con lui? Certo! Lo ricorderai con un piacere? Certo! Certo che mi aveva togliato a piacere! È una parte della mia vita, cioè è una parte della mia vita che ho fatto il film con lui, basta! Era un ruolo particolare il suo, no? Maltrattato tutto sommato, sempre preso in giro? Sì, sì, la figlia Mariangelo! Come lo viveva? Però uomo sono, sono le belle donne, tranquillo! Come lo viveva sul set di fare, di essere, insomma, il personaggio trattato peggio, diciamo? Come? Come lo viveva di essere il personaggio trattato peggio di tutti? Non lo so, se la parte era quella, era quella, mica posso farmi una parte! Poi è la parte che l'ha resa? No, perché quando ho saputo che ero dovevo fare la figlia di Fantotti, dico ma posso fare la parte maschile? Perché non lo sapevo, dico ma non ho fatto la parte maschile, invece mi hanno dato la parte femminile, ma io? E l'ha fatta lo stesso però? Eh sì, lavoro e lavoro, come diceva mio padre, lavoro e lavoro, non c'è niente di ca... È un lavoro, tutti gli attori... È un lavoro che l'ha resa famosa poi, no? Eh sì, ma il famoso non è che mi piace tanto, così è intanto un lavoro come un altro!